Tragedia sfiorata a Filadelfia negli Stati Uniti a causa del crollo di un palazzo. 12 persone sono state estratte vive dalle macerie, 5 delle quali ricoverate in ospedale. Due dispersi ancora intrappolati nei resti dell'edificio, secondo quanto riferisce la polizia. Il palazzo di quattro piani si trovava nel centro di Filadelfia, tra la 22esima strada e Market Street. L'edificio adiacente era in fase di demolizione. Tra le prime ipotesi avanzate dai soccorritori, quella che le vibrazioni dei mezzi usati dagli operai per abbattere il caseggiato possono aver fatto sbriciolare il palazzo crollato.